ho bisogno di altra acqua qui allora io metterei un secondo defuratore però non abbiamo l'altra plastica ma ci serve ancora plastica adesso il mare sembra un po più pulito quindi approfitto a pescare allora che altro possiamo fare tutto sarebbe utile creare ok si è rotto qui quindi per ora di cibo siamo messi bene perché abbiamo un bel po di pesce ok con l'acqua siamo a posto quindi non possiamo né morire di sete né morire di fame quindi le prossime cose da realizzare visto che abbiamo un sacco di foglie possiamo realizzare qualche retino ok già il primo retino lo abbiamo realizzato però io direi di non metterlo ora perché ci serve ancora la plastica ok recuperiamo la plastica come sappiamo ok adesso che abbiamo quattro di plastica possiamo mettere già il primo retino e la plastica è ok adesso che abbiamo quattro di plastica possiamo mettere già il primo retino e fargli una bella guardia ok la legna adesso è poca quindi vedi cucinare ancora questo pesce oh il primo oggetto è una cosa quasi inutile come le foglie ok più rettini mettiamo ovviamente e più roba peschiamo però anche se ne abbiamo un sacco di foglie io comunque le prendo vediamo se riusciamo a farne un altro di rettino no ci mancano foglie per le corde e ancora tre assi di legno ha cotto il pesce ok mettiamo un altro non vedo l'ora di mangiarmela un po di carne di squalo non vedo l'ora ok ha raccolto un altro po di legna no ci serve un altro po di foglie bene così ok un altro rettino realizzato più rettini facciamo e più cose recuperiamo ok sono già due rettini meglio di niente ok ho raccolto la legna qui stando da sole all'inizio sarà molto più dura però intanto guardate lì che c'è una bella help aiuto ok andiamo a prendere alta plastica vediamo se ah ci mancano le corde ci mancano un sacco di corde guarda questo squalo che non ha proprio rispetto abbiamo fatto un altro di questi oh si sta alzando la marea qui adesso arriveranno i cavalloni vediamo se riusciamo a farci un'altra pagaia perché ci sarà utile no si invece ok cerchiamo di prendere quel bar il barile una foglia e quattro assi una foglia e quattro assi ok ok diciamo che stiamo recuperando un po' di roba mmm ho mangiato una raba gruda non no ma mi 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 tanto qui sta recuperando bel po di roba non so come faccia a rimanere integra ancora questa zattera che è un po sgangherata allora ce ne mancano cinque di corde adesso solo tre ho ritornato il sereno le onde tra poco finiranno ancora un'altra foglia dai ho altre due foglie e possiamo fare il nostro terzo retino ci stiamo avvicinando ad un battello ok terzo retino quindi da qui diciamo che come portiere si sta rinforzando no no allora vediamo se riusciamo con la pagaia ad arrivare fino lì sicuramente si ce la facciamo no ok raccolto un po di cose inutili perché sono legname una ricetta ok raccolto un po di cose inutili perché sono legname una ricetta la pietra vabbè da ok abbiamo riparato qui lì c'è un ben di dio proprio speriamo di arrivarci ok 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 a corde stiamo messi male adesso davanti a noi c'è proprio un cavolo vediamo se riusciamo a realizzare questo qui no servono sempre le corde per fare le cose vediamo se facciamo una specie di ancora monouso no servono ancora le corde ok ripresa certo è meglio quando il mare è agitato così arrivano più cose perché quando è tranquillo può capitare pure che non arrivi niente vediamo ci servono foglie andiamo più velocemente a prendere la foglia grazie a tutti